Here we go guys! Finalmente si torna il bike park, si torna Alpina bike park e iniziamo con il rientro che per adesso è l'unica pista aperta questo weekend ma quando voi vedrete questo video il weekend dopo sarà aperto tutto il bike park quindi anche la seggia via dello Chiamolet e tutte le sue piste Francesco Calendolo! Finalmente ho aspettato questo momento tutto l'inverno so che hanno fatto un po' di lavori so che tanta gente ci ha girato lo scorso weekend quando ho aperto e niente non vedo l'ora di girare è abbastanza bucatino però sinceramente questo tratto non l'ho mai fatto e anche gli anni scorsi non so dove si vada però va bene tutto grazie chiulichia Qua invece non ci girerà paura Entriamo qua nel boschetto Wow Che figata Prima giorno in Michelin dopo mesi e mesi di lockdown e di allenamenti con l'enduro in palestra Wow Facciamo la 6.000 Come vuoi Prima non l'abbiamo fatta Si 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 Guardate mani! Qual terreno è più morbido! Forse l'hanno fatta anche meno persone! Wow! Ripidino! Questo è qualcosa di spangolo qua! Ripidino! 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 Si riesce a doppiare lì? Si doppia quello? Si! Figa! Ah lui ha detto di si! Si divide in due la bici! Ciao! Ciao! Dover! Stai per la bici! Di la bici! Gli la bici! I canto! Dover! By the way! Dì la bici! Sì! Dì la bici! ripetiamo che non è stato molto, non più carino, paracchini, naturali wow, un po' in calcio si può sentire, il mondo mi ha tirato una dietro dalla curva per rimanzarlo da dietro, è arrivato addosso poi con la DH-29, la DHL, è proprio comodissimo fare di esplormenti però, non bene un po' in calcio Wow, tra poco il sentiero finisce, prima giornata in parca, primo giro di gara. Siamo in una prossima che apra anche la parte sopra, so che ho fatto i lavori e davvero, sempre ho fatto l'estate e la paura, ragazzi se ne ci siete messati, in un video vivamente di dire che sia per l'escesa, che ne va in un duro ma per regalatemi la nazione di un duro di gara. Siamo pronti per andare a mangiare, ho fatto due discese, ho fatto il rientro, attenzione, davanti a Francesco Colombo. Ciao! 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 Ciao!